Circa un mese fa abbiamo aperto presso la sede di Bruxelles della regione Veneto un desk dell'agenda digitale con l'obiettivo di promuovere i principali progetti di innovazione digitale dell'agenda digitale su questo contesto importante. Oggi inizia questo ciclo di quattro incontri, il primo affronteremo il tema della tecnologia quantistica, i prossimi incontri parleremo di smart city, super computing e space economy. L'idea è quella di proporre, presentare e promuovere i progetti regionali del Veneto per confrontarci con le maggiori istituzioni europee.